Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e da un libro fondamentale per comprendere le dinamiche della seconda guerra mondiale ovvero sia questo, vi ricordate? La strada della vittoria di Richard Overy perché gli alleati hanno vinto la seconda guerra mondiale Allora, ho pensato di sfruttare il lavoro di Overy per spiegarvi come mai la Wehrmacht si logorò pesantemente durante Barbarossa e arrivò esausta e sfinita alle porte di Mosca e non riuscì a sfondare le difese di Leningrado Allora, sentite un po' qua, allora, Overy ci scrive che l'esercito che Hitler aveva assemblato per schiacciare il bolshevismo era in realtà composto di due eserciti uno più piccolo, modernamente attrezzato e dotato di carri armati e autocarri e un enorme esercito tradizionale che si muoveva ancora per ferrovia e ad orso di cavallo il primo comprendeva un gran numero di divisioni corazzate 21 erano state create dividendo i carri in dotazione in raggruppamenti più piccoli di quelli esistenti in precedenza il secondo comprendeva 119 divisioni che si muovevano col passo della fanteria e dei carri trainati dai cavalli questo assetto fu il risultato di una decisione presa coscientemente negli anni 30 ovvero sia di trascurare e ripeto trascurare la modernizzazione di un'ampia fetta dell'esercito per dedicarsi allo sviluppo di un nucleo centrale di divisioni superarmate una decisione mantenuta anche nel piano Barbarossa le armate corazzate vennero istituite come reparti autonomi che trasportavano con sé carburante e munizioni sufficienti per avanzare fino a 400 miglia in territorio sovietico la strategia adottata evitava di dover rifornire le unità mobili per mezzo di un sistema ferroviario e viario decisamente scadente appesantito oltretutto dalle truppe di fanteria che seguivano a rimorchio ma questo fu possibile solo a prezzo di sottrarre ad altri settori dalle forze d'attacco carburante e veicoli per l'invasione della Russia furono messi in campo qualcosa come 600.000 mezzi motorizzati gran parte dei quali nelle divisioni corazzate il resto dell'esercito dovete cavarsela con 700.000 cavalli e vabbè in realtà anche il nucleo centrale dell'esercito era più debole di quanto non sembrasse per assemblare il numero di divisioni corazzate necessario il numero di carri previsto in ciascuna era stato ridotto a 150 di questi carri la metà era di qualità scadente i panzer 2 con armamento ridotto i tn hp 30 di produzione cieca che stavano diventando ormai obsoleti c'era poi un migliaio di panzer 3 e 479 panzer 4 nessuno dei quali però reggeva il confronto col t-34 gran parte dei mezzi corazzati sovietici distrutti nel corso dell'attacco estivo furono vittime non dei carri tedeschi ma dell'artiglieria l'impreparazione delle forze sovietiche nel 41 l'impreparazione delle forze sovietiche nel 41 reduci dalle purghe e dalla catastrofe della guerra d'inverno ok e dicevo consentì alle truppe corazzate tedesche una penetrazione veloce e in profondità ma in autunno il pedaggio risultò molto alto ricordatevi quello che scrisse guderian prima disse che la vastità della russia ci divora e poi che i russi stavano imparando già la lezione molto in fretta le perdite subite in combattimento e per effetto del logoramento portarono allo sgretolamento dell'esercito moderno che dovette aspettare quando il fronte si fu consolidato alla fine del 41 l'arrivo del grosso della fanteria a dare manforte se in agosto la potenza dei carri si era ridotta della metà rispetto al giugno 41 a novembre c'erano ancora in funzione 75.000 mezzi rispetto al mezzo milione impiegato a giugno la vastità della russia ci divora guderian aveva ragione il dicembre successivo il dicembre 1941 le truppe corazzate erano tornate a utilizzare i cavalli le perdite procedevano a un ritmo che i comandanti tedeschi non si erano mai aspettati ben poco era stato previsto e predisposto nel caso che la rapida campagna di annientamento fosse fallita tenete presente questo ben poco i tedeschi avevano predisposto nel caso che la campagna di rapido annientamento fosse fallita di conseguenza nel 1942 anche la germania aveva bisogno di modernizzarsi al fallimento dell'offensiva con aerei e blindati del 41 si aggiunsero i problemi legati alla geografia e alla qualità del terreno all'arrivo delle piogge autunnali la seconda rasputizza dell'anno i veicoli motorizzati tedeschi restarono pressoché paralizzati su stradine che erano poco più di trattori i rifornimenti di carburante e lubrificanti per il fronte si interruppero carri che a velocità di crociera consumavano un litro di gasolio ogni 120 miglia sulle strade estive e in piano adesso richiedevano più di 18 litri per coprire la stessa distanza trascinandosi in prima marcia l'arrivo delle gelate invernali concesse un po' di tregua ma con i loro cingoli stretti i carri tedeschi non erano in grado di attraversare il fango ghiacciato e le temperature sotto lo zero portarono nuovi problemi le torrette e i congegni di mira si congelarono le guarnizioni di gomma divennero fragili i tentativi di scaldare i motori con piccoli braceri causarono esplosioni sulle piste d'atterraggio improvvisate i meccanici congelavano letteralmente sulle macchine a cui lavoravano il sistema dei rifornimenti messo a dura prova dalla velocità dell'avanzata minacciò di interrompersi del tutto e fu garantito dai cavalli che trascinarono carri e cannoni quando i motori non ce la facevano e trainarono carovane di carri coperti con scorte e munizioni tuttavia così anche così incontrarono difficoltà perché i massicci cavalli europei soffrivano per il gelo e la scarsa alimentazione e nei primi mesi della campagna si registrarono perdite di questi animali preziosissimi superiori alle 250.000 unità ancora una volta la frase di Guderian la vastità della Russia ci divora vabbè furono sostituiti dai più piccoli cavalli russi con le slitte che divennero la forma più importante di trasporto per buona parte dell'esercito tedesco nel corso del 1942 furono portati in Russia altri 400.000 cavalli dall'Europa controllata dal Reich e nello stesso anno l'industria tedesca sfornò appena 59.000 autocarri per un esercito di 3 milioni di uomini e le difficoltà produttive e logistiche della Germania durante Barbarossa la vastità della Russia ci divora 1 2 i russi stanno imparando in fretta la lezione Guderian dixit va bene il crescente ricorso ai cavalli non era dovuto solo al clima e alle condizioni del terreno perché erano grandi le difficoltà sperimentate anche nella manutenzione e riparazione dei veicoli a motore problemi che i tedeschi ebbero per il resto del conflitto e sentite un po' perché l'esercito tedesco a differenza di quello nemico aveva una vastissima gamma di tipi di veicoli e di motori nello sforzo di rifornire di autocarri e di mezzi da combattimento le truppe corazzate nell'intera Europa era stata fatta incetta di motoveicoli di ogni genere nel corso dell'assalto all'unione sovietica si utilizzarono 2.000 2.000 e ripeto 2.000 2.000 2.000 tipi di veicoli diversi così che la sola centrale operativa dell'esercito doveva portarsi dietro oltre un milione di pezzi di ricambio una singola divisione corazzata andava al combattimento con 96 tipi di mezzi per il trasporto delle truppe 111 tipi di autocarri e 37 di motociclette un incubo se ci pensate un incubo un incubo se ci pensate il lavoro di riparazione diventò un incubo appunto sempre più mano a mano che la qualità del terreno e la violenza degli scontri portarono a livelli eccezionalmente alti di usura e di cedimenti nel novembre del 1941 la stessa divisione corazzata aveva solo un 12% del suo intero stock di veicoli in grado di muoversi è comprensibile che la produzione di pezzi di ricambio non fosse sentita come una priorità all'interno della stremata organizzazione delle scorte né sul fronte della produzione nel Reich si dava maggior rilievo alla produzione del prodotto finito rispetto ad una quota soddisfacente di ricambi e di componenti dei mezzi soprattutto di motori come fai a metterli in moto come fai a tenerli in moto come fai a farli viaggiare se non hai i ricambi vabbè 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 nel corso del 42 e del 43 si fecero degli sforzi per aumentare la produzione dei ricambi ma la mancanza di una produzione standard e lo stato pietoso dei percorsi che portavano i rifornimenti in Russia lasciarono una gran quantità di veicoli immobilizzati per mesi o per settimane costringendo le forze armate tedesche a fare sempre più affidamento su pezzi d'artiglieria trainati dai cavalli e su lunghe marce a piedi eh quindi che vi posso dire signori il problema della logistica tedesca il problema della mancanza di adeguate quantità di pezzi di ricambio per la spropositata quantità di modelli auto moto carri armati semi cingolati camion eccetera 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 che servivano che erano la come dire erano indispensabili per muoversi nella vastità delle pianure russe eh a novembre i mezzi efficienti delle divisioni tedesche erano il 12% di quelli partiti il 21 giugno 1941 ho ripetuto più volte la frase di Guderian la vastità della Russia ci divora e il libro di Overy ci spiega come ci spiega brevemente come e perché la vastità della Russia divorò la Germania non solo per le caratteristiche fisiche e geografiche del paese ma perché i tedeschi erano andati in guerra con un numero spropositato di varietà cioè insomma parliamo veramente di migliaia di tipi diversi di veicoli camion moto semi cingolati carri armati automobili tutte di tipi diversi e con una quantità insufficiente di pezzi di ricambio i pezzi di ricambio e soprattutto e soprattutto questo costrinse la Germania a puntare ancora di più su che cosa sull'uso dei cavalli per la logistica l'artiglieria tedesca che fu la vera protagonista di Barbarossa la vera vincitrice sui carri armati sovietici durante Barbarossa l'artiglieria sovietica durante Barbarossa si muoveva a cavallo signori tutto qua quindi ripeto cari signori questo video è il primo di una serie di considerazioni che farò a proposito di questo libro che consiglio a tutti quanti di leggere la strada della vittoria di Richard Overy quindi cari signori preparatevi perché ci sarà molto ripeto sottolineo molto con cui divertirsi ok quindi come sempre aspetto i vostri commenti come sempre aspetto le vostre considerazioni come sempre arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao